Un workshop internazionale per far rivivere il giardino del castello di Chiaramonte di Favara. Un lavoro in sinergia che molti ragazzi, alcuni dei quali provenienti da diverse zone d'Europa e anche dagli Stati Uniti, unitamente ai loro colleghi della Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, qui per lavorare, sia per un impegno didattico ma anche per un impegno sociale. Il giardino del castello di Chiaramonte, da discarica, dovrebbe rivivere ed essere fruito. Abbiamo prima bonificato la zona togliendo una grandissima quantità di detriti. Adesso abbiamo proceduto con i movimenti terre e adesso lavoreremo con le piantumazioni. Quindi abbiamo trasformato una discarica sostanzialmente, speriamo, in un piccolo paradiso che verrà utilizzato. È curato da tutti i cittadini e contiamo molto anche sull'aiuto delle scuole. Quindi se ci sono delle maestre che ci stanno ascoltando, noi li invitiamo comunque a raggiungerci soprattutto dal 29 giugno in poi per adottare anche loro una piccola parte di questo giardino. Tanti giovani studenti volenterosi dal punto di vista didattico ma anche impegnati dal punto di vista sociale. Sì, credo che sia un'esperienza molto bella perché oltre allo scambio culturale noi stiamo lavorando per ridare dignità a questo giardino e nello stesso tempo imparando stiamo cercando di migliorare e rendere fruibile questo spazio che era stato un po' dimenticato. Anche ragazzi, persone della California qui in Sicilia, a Favara, per contribuire alla rinascita del castello di Chiaramonte. Alfred Decker è un agronomo californiano. Perché sei qua? Un'esperienza del genere è il modo migliore per condividere le sue esperienze nell'architettura del paesaggio e nei giardini comunitari e quindi condividerle con ragazzi di un'altra nazionalità e un'altra cultura. Grazie a tutti.